IAD, Interior Design, terzo anno, Gigi Pellegrino, Meet, Giulio Cappellini. Siamo qui con Giulio Cappellini per due domande sui design, sui futuro, le nuove prospettive che questa azienda da dare. Quando si approccia il Cappellini's Dream, come lo chiama lei, alla ricerca dei nuovi materiali e anche alla protela dell'ambiente? Diciamo che sicuramente noi durante tutto l'anno abbiamo un tipo di persone che fanno questa ricerca, questa prima ricerca sui materiali, anche perché molto spesso ci interessa lavorare su dei materiali, su delle tecnologie che non sono molto utilizzate in una rete e questo porta più o meno a dei processi evidenti, spesso sono dei processi che necessitano di mesi o di anni, però ritengo che oggi fare delle innovazioni significa lavorare in questa direzione, non basta inventare una forma nuova, ma bisogna veramente pensare a nuovi sistemi produttivi, bisogna sicuramente pensare a un'inizio di ricerca che oggi abbiamo, però sono sicuramente interessanti e perché non cercare di fare comunque i prodotti che siano tantissimi, più facilmente la cittadina di nuovo. Il design sta cambiando, sta crescendo, si evolve? Verso che direzione si sta orientando rispetto al passato, a quello che era l'inizio di questo percorso? Diciamo che sicuramente il design si evolve continuamente, spesso dicono che il design è stato creato tutto, non sono assolutamente d'accordo, ci sono ancora milioni di cose da creare, sia nel design degli oggetti più inclusivi, sia nel design degli oggetti più nascosti. Devo dire che oggi il design deve riuscire a entrare nelle case delle persone e diventare partecipi, che se in passato le persone si identificavano, quindi degli oggetti di design da eseguire, se non è stato un simbolo, oggi le persone vogliono farsi sempre come una casa, una corda misura, che comunque rispetti la propria cultura, la propria tradizione. Non esiste più un consumatore molto culturale, oggi esiste un consumatore che ha un mixare tendenze differenti, progetti diversi, progettati in empati diverse, da design diversi, prodotti da aziende diverse, da luoghi diversi, perché anche fare la contemporaneità e la risoluzione del design può dimuoversi in questo caso. Per concludere, esiste un progetto che ha colpito particolarmente, che quindi come fa con me è più affezionante, non si va ancora a colpirla, a scoprirla ogni volta che lo serve? Devo dire che per un padre dire qual è il migliore dei figli è sempre una domanda difficile, no? No, una domanda che spesso mi viene fatta, sinceramente i progetti o il progetto che mi sono collegato sono quelli che hanno una lunga storia di gestazione alle spalle, quindi magari quelli più sofferti. Prima parlavo del progetto di high-tech, dell'hotel di gestione, ma sono un progetto che veramente abbiamo investito tantissimo tempo, tantissime energie, un progetto nel quale sembrava di essere arrivato alla fine dovevi ripartire dall'inizio, anche forse questo è il progetto più legato, perché da una parte è stato un progetto solamente faticoso dell'alberato, un progetto che però c'erano poi nel mio cammino. Grazie a voi.